E' l'artista che ha realizzato la statua della Spigolatrice, che dovrà essere installata prossimamente sul lungomare di Sapri. Le sue opere, monumentali ed espressive, ora si possono ammirare nella mostra fotografica allestita a Bosco dall'Accademia del Cilento. Si tratta di Emanuele Stefano, scultore di Pellare, frazione di Moio della Civitella, diventato nel tempo firma di numerose opere disseminate sul territorio cilentano, dal nocchiero di Enea, situato allo svincolo di Palinuro, al San Bartolomeo di Pellare. Oltre che, nome noto, anche a Carrara, dove lavora per la maggior parte. Il marmo, infatti, è il suo materiale di lezione, ciò da cui questa passione è iniziata. Ho iniziato con un corso di ceramica. Ho lavorato per due o tre anni con la terracotta, sperimentando tecniche di terracotta antiche. Insomma, poi ho scoperto il marmo, dopo qualche anno mi sono rimasto polvorato da questo materiale, che per me riesco con il marmo ad esprimermi al meglio. Quindi lavoro il marmo da una quindicina d'anni. Ho iniziato facendo una scultura monumentale, tra virgolette. Ho iniziato facendo una scultura scolpendo un blocco di marmo di 84 quintali. Quindi è stato un inizio molto lungo, faticoso, però ho fatto un sacco di esperienze. Essendo autodidatto, ho avuto modo di apprendere molte cose lavorando a questo blocco di marmo. L'abilità di Stifano si è poi perfezionata, arrivando a dare intensità ed espressione alle sue opere, tutte di una certa grandezza, tanto che la mostra allestita nella residenza d'artista, rifugio del contadino, ne dà conto attraverso delle tele fotografiche, da cui comunque emerge tutta la suggestione delle sculture. L'appuntamento culturale è a cura di Accademia del Cilento, fucina di arte e di pensiero ideata dal pittore Cesare Siboni. Le opere dello scultore Stifano Bosco saranno in mostra per una settimana.